E' un uomo, cosa pensi della vuota rosa? E' una scena marina, è già bella pescina, E' un uomo, cosa pensi della vuota rosa? Ancora l'anno passato, postava meno, non è più bravo, una madre nè, è più bravo. E cosa faccia qui, e va, e riscopta bene, non li credi, non li credi, non li credi, non li credi, non li credi. Che c'è una mia, a bianca ne indietro, a bianca, non li credi, non li credi, non li credi, non li credi. La teoria è di andare, систica, Encora l'anno passato, postava meno, non è più bravo, una madre nè, è più bravo, una madre nè, Ecco, è parlamatici, è così da parlamatici. Abbiamo avuto amore e vendita, sappiamo bene che richiediamo sacrifici, ma speriamo che questi sacrifici siano compresi proprio in modo di quella possibilità di crescita che si accompagnerà all'apporzamento dell'amore senza il quale epoca attuale anche questa ritorno al sistema credenziale.